Dopo tanta nebbia e pioggia succede a volte che con la prima giornata bella la voglia di fuoristrada ti assalga con prepotenza. Allora succede a volte che tutti insieme senza rendercene conto allegramente si vada a finire incontro a quelle malgate che sono poi argomento di molti giorni a venire. Questa è una di quelle. Questa è una parte giù. Sì. Basta, basta. Inizia subito, appena cinque quadri sotto, perché ciò vai, lascio facciarsi l'arrivo. Vedo. Un'altra parte di... ...mai che ciò andiamo... Un'altra parte di... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.